Era una tiara creata per nove confini in schista, un poesio là che i buligani di razza e di sangue non avevano costrutto e i popoli si incrosavano, si ingropavano tutta una danza che era la furlana, la sclava, la staiara, tutta una musica che era che dai quei e da montagne se la splandevano dal mare. Questi perauli scritti dal poeta gurizzan Celso Maccorta, i anni sottante, dal novecento, poco prima che la storia sdroma su, che il mur che al divideva non solo la città di Gurizia ma tutta l'Europa, noi mostrano una volta ben l'anima profonda del Friul. Eppur tutta il Friul è una tiara di confini, con il Veneto e con il resto d'Italia, con la Carinzia e con il mondo tedesco, con la Slovenia e con il mondo sclava. Questa non è una condizione esclusiva o privilegiata, ma è una metafore impegnativa di esistenza di tutti gli umani. Ogni popoli, in fin dei conti, sale al confin con un altro, ogni etnia è sincrosa con un altro, e ogni d'un di noi è al confin con qualcuno, con altri, con altri, si confronta ogni giorno con altri differenti, con altri conosciuti e sconosciuti. Queste tiara è da là che ogni po' che si muove si sinta affevela sloveni e tedeschi, e donne naturalmente di furlani italiani, è il simbolo del fatto che i confini stati non vivono a tenere conto dell'identità dei inti. E c'è un'illusione che di definire col metti paletti, perché l'identità non sopporte paletti, ma anche quando c'è un'identità minorizzata o un'identità plurale. La percezione delle proprie identità è una questione più complicata dell'appartenenza statale. I furlani si hanno avuto un'autonomia politica di un livello che appoderessi inclamare statale, non mette bassa e di mezzo, dal 1077 al 1420. La patria del Friul, così era reclamata, era insedata per l'architettura dei sacri romani imperi, e questo ha permesso ai furlani di guadagnarsi una filosofia specifica del suo agio dei linghi neolatini. Ma anche la società del Friul medievale era plurilengale, e se la più parte dell'identità avevava per furlani, la classe dominante era germanica, perché le Toscane e le Lombardia si cominciavano ad arrivare su tutti i banchieri. In che volte sono passati tanti secchi, con loro tanti esercizi, tanti invasori, e il popolo furlano è restato sempre lì, con la sua lingua e con la sua cultura. È una lingua e una cultura di botte sempre disconiossute, se non dispreseate. Nome dal 1999, con un ritardo impressionante anche rispetto alla Costituzione, la Repubblica Italiana ha fatto bene una legge di riconoscimento delle minoranze linguistiche storiche, e così ha dato anche al furlano la possibilità di inviare forme di tutela e proglie di insegnamento finanziate dal Stato. Ma è chiaro che questo non basta. Per le società filologiche furlane, per tutto il mondo di culture dal Friul, alleone vorrebbero tessi relazioni con una realtà culturale foreste come la Blue Frog Society, che ha cura anche le minoranze e i popoli piccoli. Questa collaborazione conviene fra gli altri robbi è in linea con l'attenzione che di lunghi secoli queste città hanno avuto verso il Friul e la Solenge. e vale la pena di ricordare che dall'anno 1500 la parte di Friul ha sorelle Ievat, che non è restata e conquistata da Repubblica di Vignesie, e è passata in eredità dalla famiglia di Jasburg, che le ha governate fin 3 maio al 1918. Ecco, poi, già dal 1637 un pre di Furlan impegnato da Cordy Vienne ha dedicato un suo poema per Furlan all'imperador Ferdinand Tiarche. Il suo filo ha portato il primo al dioldeve all'Eilis Poesis Furlanis di Hermes di Colorette. Qua che l'imperador Carli VI ha venuto in visita a Gurizze dal 1600 Vincievot ha ricevuto in regale il manoscritto delle traduzioni furlane di Eneide fatte di Joan Josef Busic, un altro Gurizan. Tal vocente all'estate Carl von Czernig, il direttore delle statistiche amministrative dell'Imperi, ha in acquargisi di presenza dal piccol popolo furlan. Tantale è vero che, quando la scuola in pensione, ha lasciato di ritirarsi a Gurizze e di lì si è impegnato a far conoscere queste tiere scrivendo libri e articoli scientifici. A Gurizze, citato la che fin alla ete dei nazionalismi, fin dal voce, praticava la convivencia e si favelava in ciance fastidies, di sorte, Furlan, Slovene, Italiane e Todesche, all'era nascuta dal 1929 di una famiglia ebraica grazie a Dio Isaia Ascoli, che sarebbe diventato un gran studioso di lingue e naturalmente anche di Furlan. Ascoli diceva, «I sono nascuta a Gurizze di genitori israelici, io sono figli del friù e mi gloria di questo». Perché la società filologica furlane nascuta proprio da Gurizze dal 1919, non poteva non essere intitolato al suo nome e lo può anche muovere dopo sette anni, cento anni, con tante braure. Dai timi di Ascoli il mondo alle univore è cambiata, due giorni mondiali sono violentate la musa dell'Europa. L'immigrazione ha segnato dolorosamente anche il friù, il massimo dopo la seconda guerra, perché in altra si preparava il boom economico. i paesi del mondo si sono disvedati, in pras non c'è più nessuno, il bosco è venuto sempre più indennato, torna a diventare un parone di quei tanti di terra che l'uomo aveva lavorato e aveva portato via con tanti anni di fadie. La civiltà contadina ha lasciato il posto anche industriale, che sta cambiando anche il paesaggio di questi tanti di terra che ha portato fra i Salps e il mare Adriatico. Il grande terremoto del 76 ha fatto il resto. Un hombre illuminato come Pierpaolo Pasolini ha avuto scritto pagine straordinarie su queste mutazioni antropologiche. Alla dibattu, i ludici che, vengono a cambiare il mondo a torre dai furlans, arrestano sempre compagni del loro mondo interiore, il loro immaginario collettivo. Dai timi passati, il pericolo di scomparire veniva dai eserciti che ti conquistavano, o dai nazionalismi, più manco ideologici e violenze. Dice che ti facevano sentire tanto, ti portavano a disprezare la tua cultura, o di quei che proprio ti proibivano, usano il fascismo, che avevano i predici di prediciare per Furlan, condutt che lo facevano di sé qui. Tal timp che ho sin d'ora vivi no, si tornino a fassumur, si tornino a compare i formi di rivendicazione identitarie che non lasciano questo alle minoranze, alle differenze, al pluralismo. E, per i popoli piccoli come i nostri, la sfida più tremenda è che la globalizzazione. Di una parte, ho potuto inviercici un mondo di straordinarie varietà geografiche, linguistiche, etniche. Ho capito di esce un claput dal gran mosaico dei popoli, o sentire di esce interdependenti, di che altri si sentirei sfacagliati dall'esilio del marchio, e dall'esilio del buon vivino e sincero, al punto che rischiamo di disprezare la nostra regione. La società tecnocratica, che di spesso già non ten conto delle culture e dei valori umanistici, non abbandono anche alle sculture piccoli che, tenendo l'esilio del profitto, si chiamano completamente disarmati. Per vincere queste sfide, i Furlan si hanno prendi tutto di chi ha coscienza della loro identità, e per questo è l'importante che anche la scuola, per esempio, è proponente dei percorsi di storie, di geografia, di letteratura, ti hanno preso che questo non è un'altra ma conoscere se stesso, per poter conoscere gli altri. Ma poi bisogna anche che ogni d'un torni a fare la pace con la propria origine, con la propria identità, con la propria lingua, anche se, aprim colpa, poi d'insomea puaris, inutilis, sull'accordo inferiore. E non è facile, per esempio, far capire agli genitori che, per i frutti, cresci bilengai, vedo slenghi, e da tante opportunità in più, anche a livello cognitivo. e, al stesso modo, la riflessione sulla propria identità e sui propri riferimenti culturali aiude a accettare che gli altri, a sentire i cittadini del mondo. Per questo credo che il Friul, tier di convivencia pacifica di diversi popoli, ha rappresentato laboratori di educazione plurilengale, che può diventare, anche per Blue Frog Society, un luogo di studiare la possibilità di una società che non si definisce mediante di confini stati, ma mediante di valori culturali e sociali che asmirino all'amicizia fra i popoli.